oggi facciamo merenda con la graffa con la composta di albicocche e curcuma più leggera di due pacchettini di crackers vediamo subito insieme la ricetta facile e veloce ricca di gusto ed equilibrio sciogliamo il lievito in un po' di acqua tiepida aggiungiamo il burro l'uovo lo zucchero l'eretitolo e l'inulina l'inulina dona all'impasto la stessa fibra che avremmo con una farina integrale infine aggiungiamo la farina e il sale fino ad ottenere un impasso liscio e omogeneo lasciamo riposare per 20 minuti coperto con una pellicola stendiamo per ottenere una sfoglia spessa 6 mm e con un coppapasta ricaviamo dei cerchi delle ciambelle facciamo lievitare altri 20 minuti a temperatura ambiente e poi friggiamo in abbondante olio di girasole alto oleico a 170 gradi tamponiamo molto bene le nostre ciambelle con la carta assorbente le passiamo nello zucchero solo da una parte la merenda è pronta gustiamo la nostra graffa con la composta di albicocche curcuma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti